Tuk, tuk, te-nam, tuk, te-ga-dam, 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 tuk, te-ga per quanto riguarda la testimonianza, rispetto alla testimonianza e questa sera ci occupiamo di un ambito veramente molto particolare che mi sta particolarmente a cuore perché la persona con cui faremo questa chiacchiera amichevole è una persona che io stimo molto sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano e si occupa di ricerca, è uno dei, lo considero ed è considerato non solo da me ma è considerato uno dei ricercatori dal punto di vista internazionale, mondiale, più importanti per quanto riguarda la voce artistica e ha fatto ricerche che sono sia ricerche didattiche sia ricerche scientifiche quindi con contributi che sono contributi foniatrici che hanno fatto luce su moltissimi meccanismi e sui meccanismi appunto risonanziali e consonanziali. Ma soprattutto al di là della tecnica e come lui stesso bene ci parlerà fra poco è un performer e ce lo farà sentire anche questa sera in chiave online perché le nostre interviste performative voce coscienza at home vanno proprio a casa degli artisti e cercano di mettere in luce anche pur con questo momento storico un po' particolare di mettere in luce le loro grandi capacità. Questa sera abbiamo con noi Matteo Belli che è il performer, ciao Matteo direttamente dal tuo studio, dal tuo studio, dalla tua abitazione e sono molto contento, siamo molto contenti di averti qui a voce coscienza e speriamo appunto che questa serata sia una serata molto 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 particolare. Lo so già che lo sarà perché non vedevamo l'ora di averti qui come performer e anche di sentire la tua testimonianza. Grazie Alessandro, ben trovati. Allora, questa serata come ti dicevo fortemente voluta da noi che segue poi quella che è stata combinata per quanto riguarda il nostro evento present che abbiamo vissuto anche insieme perché ci hai fatto questo bellissimo regalo che è un regalo di un brano, di una lettura, di un monologo anzi, di un canto dantesco molto 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 bello che spero avremo l'occasione di sentire anche questa sera. Allora, innanzitutto ti vorrei subito fare una domanda. Tu come ti definisci? Nel senso, ti definisci ricercatore vocale, ti definisci performer, ti definisci didatta? Possiamo applicare un po' tutte queste cose ma tu come ti senti più inquadrato? Se vuoi essere inquadrato naturalmente. Ma quando si scriveva sulla carta di identità c'era scritto attore. Fondamentalmente deriva un po' tutto da lì, dall'esperienza di palcoscenico, da quello che ho incontrato nel lavoro artistico, nel lavoro scenico, nel lavoro performativo e quindi sostanzialmente mi definisco un artigiano di questo lavoro che dalla scena poi ha cercato di condividere, cerca attraverso la formazione di condividere le proprie esperienze dedicandosi anche talvolta alla regia e alla scrittura dei testi. Quello che è avvenuto nell'ambito della ricerca è stato sicuramente ispirato dalle esigenze, dalle necessità che muovevano dal lavoro di palcoscenico, per cui è un po' l'attività che regge tutte le altre. Poi dopo a volte le altre prendono, come nell'ultimo anno, ci possiamo immaginare, insomma un'importanza notevole e in certi momenti totalizzante per cause di forza maggiore. Però fondamentalmente ecco mi piace ricordare che quello che cerco, quello che condivido con gli allievi e con le ricerche sostanzialmente è destinato all'espressione, è destinato alla libertà espressiva non solo per attori. Allora, interviste performative. Solitamente noi conduciamo questo tipo di intervista chiedendo anche alla persona naturalmente che sta facendo per noi, che ci sta facendo questo meraviglioso regalo, con cosa vorrebbe cominciare? Quindi le due domande scomode, le due domande scomode sono come ti inquadri e con cosa vorresti cominciare? Nel senso, sono anche un po' imbarazzato perché è talmente vasta, diciamo, il putpuri di cose che tu hai fatto nella tua vita artistica, prendendo sia dalla poesia, sia dalle laudie medievali, sia dalle tecniche che possiamo definire ethno-word, perché ricordiamo per esempio il tuo studio anche sugli armonici che hai applicato al teatro, oppure uno dei tuoi cavalli di battaglia che è l'utilizzo di più voci contemporaneamente. Di tutte queste, ce n'è una in particolare con cui tu vorresti cominciare a deliziarci e a farci sentire qualche cosa dal punto di vista performance? Possiamo cominciare con quella che c'entra di meno con tutto questo discorso, che è un brano non esattamente parlato, tratto da uno spettacolo sui giullari, sulla letteratura giullaresca popolare d'Italia dell'età medievale e è un'incursione nel mondo del canto, del canto medievale con un brano tratto dal Laudario di Cortona del XIII secolo e rivisto diciamo in una chiave un po' moderna, con uno strumento, insomma una chiave anche abbastanza popolare, con uno strumento che suoniamo molti, almeno noi maschietti, per esempio la mattina quando ci alziamo andiamo in bagno e lì abbiamo occasione di cominciare la giornata con un po' di bellezza. È uno strumento molto particolare che va ascoltato con molta attenzione, magari al quale dopo dedicheremo due parole. Allora, io ti lascio la scena perché così almeno possono vedere esattamente tutto quanto stai facendo, anche dal punto di vista tecnico. Ave Donna Reggina potentissima La vertù celestiale Con la grazia supernale En te virgo virginale Discese benignissima Ave donna santissima Ave donna santissima Regina potentissima Ecco, per i numerosi filologi che ci staranno seguendo, vorrei ricordare che questo è un brano che andrebbe eseguito con un rasoio in re. Poi dopo fate quello che vi parla, insomma. E' così, ci siamo messi avanti anche con la barba di domattina. No, è perché questa vita conosci i tempi, conosci insomma le sincopi, conosci i fiati rubati, conosci i ritmi per cui insomma a volte si cerca di unire l'utile al dialettevole. Senti, ma come ti vengono queste intuizioni? Cioè come vengono in fase performativa? No, è che in fase performativa, in fase che mentre usavo il rasoio sentivo questa nota costante, questa sorta di bordone e allora mi accorsi che poteva stare sotto questo brano e dissi ma in fondo anziché farlo a cappella ma insomma sempre da solo, da solo, da solo, da solo, aiutiamoci su via. E così nacque, poi lo fece vedere agli amici musicisti, colleghi con cui facevo uno spettacolo di poesia e musica medievale italiana, i giocollari del micrologus. Ecco, e lì non dico che si siente rotta la nostra collaborazione perché sono talmente oltre culturalmente e anche dal punto di vista umorale che insomma dissero, vabbè, d'altra parte, capirono insomma. No, erano tutto un repertorio che chiaramente facevamo in modo, sì, molto divertente ma estremamente più serio e io l'ho portato su questo binario giullaresco, doppiamente giullaresco. Senti, mi piacerebbe tanto, anzi lo facciamo per fare questo escursus che credo stupirà perché da quando ti conosco ti ho, ci sono tanti contributi naturalmente reperibili su YouTube, su internet, questo dobbiamo dirlo per le persone che poi vorranno ricercare un qualcosa di più, diciamo di spaziare all'interno di quello che è il tuo repertorio. Quindi potranno trovare tante di queste micro performance che facciamo questa sera magari in una chiave più estesa. E senti, il tuo rapporto per esempio con, abbiamo goduto tutti del fatto che tu abbia interpretato Dante, ma non solo, no? Ti piace interpretare le poesie, tu ti definisci diciamo più che un, questo magari lo diciamo, più che un teatrante che diciamo recita su dei testi drammaturgici, un attore che invece prende spunto da delle opere letterarie. Sì, sì, il lavoro, poi lo sai, cominciai come Mimo nel 1989 e lì chi l'avrebbe mai detto, poi dal Mimo nacque la passione per la fabulazione. La fabulazione portò l'incontro con la voce, con le possibilità della voce in un teatro, sì, fondamentalmente solistico, che però guardava a molte collaborazioni musicali già dai primi anni, insomma da quando cominciai a parlare, diciamo, per le cose come stanno per capirci. E quindi questo teatro sostanzialmente solistico, ma non solitario, mi ha portato poi a misurarmi con le possibilità della performance. Varie tonalità, varie accezioni della dimensione performativa, quindi non solo il teatro di affabulazione, non solo il teatro di narrazione storica o favolistica, ma anche appunto l'incontro con la poesia medievale, l'incontro con la musica sia in chiave, diciamo, più filologica, quindi come già citato, rapporto con la musica medievale, ma anche con compositori come Paolo Vivaldi, che sono stati, lui in particolare, un collaboratore storico di tante avventure, con cui per esempio facciamo il concerto dal sesto libro dell'Eneide, facciamo anche un'edizione delle fiabe di Calvino, facciamo, lui musicò uno spettacolo come Marzabotto, scritto con Carlo Lucarelli, quindi di narrazione storica. E poi, ecco, l'avventura, tantissimi, oltre cento eventi, tantissime le collaborazioni con altri musicisti o gruppi musicali, l'ansiamo il Respighi, per dirne uno, insomma. Però, ecco, diciamo che il filone del lavoro, dell'impegno solistico, mi ha poi portato a concentrarmi anche su come i testi letterari in cui la qualità della scrittura fosse, nascesse appunto per la pagina, mi ha portato a cercare di tradurre questa pagina con la scenicità, con la trasformazione scenica di questa parola che da scritta diventa orale e poi appunto si affaccia al palcoscenico nella sua dimensione anche talvolta corporea e quindi, insomma, più complessivamente performativa. Questo è stato chiaramente un percorso che mi ha portato a incontrare varie latitudini, vari linguaggi, vari modi di confrontarsi con l'oralità, con la vocalità, quindi l'uso della voce più indipendente dall'applicazione, dall'interpretazione scenico-letteraria, sempre non dimenticando appunto la componente un po' dello studente di musica che c'era dentro di me e quindi la passione per la musicalità, ecco, diciamo, in senso lato, quindi non solo fonica ma anche corporeo-gestuale. e poi la matrice corporea che il mio teatro aveva coltivato un po' fin dall'inizio con queste stemporane, inizialmente, interpretazioni antropomorfe, come le chiamavo io, che cercavano di dare voce e corpo umano a cose che umane non erano, tipo il cavatappi e il turaccelo di bottiglia, la brioche, il tulipano, la candela in processione, il bancomat, la banconota e il distributore automatico, ecco, insomma, erano tutte interpretazioni che, e via discorrendo, insomma, una serie, ne seguì a queste prime, questi primi abbozzi del mio teatro che trovarono luce già nei primissimi anni, 1989-1990. E proprio trovarono la luce dei riflettori bontalloro, insomma, cose che io non avrei mai pensato, potessero interessare addirittura direttori di teatro, di rassegne, ecco, pensavo, facevo per me, per quegli amici, insomma, erano modi per comunicare, per stare insieme, per dirsi qualche cosa, insomma, io cercavo questo, evidentemente, questo aggancio, questo linguaggio che univa l'umano al non umano in una sorta di, come la chiamavo, battaglia contro la solitudine, che potesse, come fanno i bambini, insomma, che disegnano il sole con gli occhi, il naso e la bocca, ecco, cercavo io, in questa chiave antropomorfa, di cercare di unire, ecco, attraverso questo filo rosso panpsichista, un po' animista, insomma, l'anima di tutte le cose. E così andava a rompere le scatole ai soggetti animali, ai soggetti vegetali, ai soggetti, appunto, cosiddetti inanimati, cercando di dimostrare che, in effetti, anche una candela può soffrire le pene dell'inferno nel momento in cui si sacrifica compiendo il proprio mestiere, quindi sciogliendosi. Non parliamo della lotta epica tra un cavatappi e un turacciolo di bottiglia, che sono tutti e due lì impegnati a fare il loro mestiere, ma si trovano opposti l'uno all'altro, quindi in una lotta fatale, che non ha colpevoli, se non forse nella concezione umana di usare le cose per i propri scopi. Ecco, l'unico responsabile che potremmo trovare è l'uomo che costruisce queste cose. Poi queste cose mi sembrava che prendessero una vita indipendente, insomma, a prescindere un po' da quello che noi ci vogliamo fare. E quindi in questo vivere e viversi non potevano che affrontare gioie, dolori, dubbi, ansie e quindi la testimonianza, il martirio letteralmente inteso della propria esperienza vitale. E questa chiave antropomorfa me li faceva sentire e me li fa sentire talmente vicini, talmente dentro che ogni volta era come interpretare un personaggio umano. Senti, fino ad arrivare al canto armonico che è un po' la sublimazione di tutto ciò che è parola. Sappiamo che diventa un modo per pregare, diventa un modo per sollecitare determinati stati interiori dentro di noi, diventa un modo anche per esprimersi artisticamente. ci fai sentire qualche cosa e poi ce lo contestualizzi anche in questa dimensione. Ti lascio tanto aperto. Grazie. Un mio brevissimo brano intitolato Come l'aria dei venti, come i voli del sonno. Come l'aria dei venti, come i voli del sonno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Molto bello quello che fai. Grazie, grazie. Sì, è un finale un po' in frai, insomma. Un po' in frai, però è anzi, proprio per questo ti porta veramente a una chiusura quasi. Ma senti, come nasce questo? Ma dunque è un brano che io mi trovai a comporre subito dopo la scomparsa di mio padre e come hai detto tu molto bene, prima io sostengo che gli armonici puliscano l'aria. Se ascoltiamo il silenzio che si crea immediatamente dopo un canto armonico, io l'ho sempre trovato diverso dal silenzio che potremmo ascoltare prima. E avevo bisogno di parlare con mio padre in forma diversa, insomma, non potendo farlo più direttamente di persona. E poi confluì in un'edizione invece del secondo libro dell'Eneide, quello sulla fine di Troia, che ovviamente precede tutta la narrazione che poi avevamo già fatto con Paolo Ivaldi, con Teresa Ceccato, Elena Lera prima e Claudia della Gatta poi con il secondo libro dell'Eneide. E invece poi successivamente nel 2006, se non sbaglio, con Fabio Tricomi facemmo il secondo libro. E come l'area dei venti, come i voli del sonno è un verso che ritorna, ritorna sia quando Enea cerca di abbracciare tre volte la moglie Creusa, che ormai è già morta e si congeda da lui, lo lascia andare con il figlio per mano e il padre sulle spalle, assieme ai sopravvissuti in quel lungo viaggio che poi, secondo la narrazione virgiliana, lo porterà a fondare Roma. E per l'ultima volta lui cerca di abbracciare la moglie, ma appunto questa gli sfugge, come l'area dei venti, come i voli del sonno. Le stesse tre volte impiegherà poi invece nel sesto libro per cercare di abbracciare l'anima del padre Anchise. E ancora una volta il padre sfuggerà al suo abbraccio, ovviamente non essendo più un corpo fisico come l'area dei venti, come i voli del sonno. E questo verso ritorna in queste due circostanze, proprio come dire l'incontro del vivo con l'anima, con l'anima del trapassato, quello che lascia, quello che lascia anche metaforicamente quando pensiamo ai nostri cari, quando pensiamo alle persone che non ci sono più, quando abbiamo bisogno e ci sentiamo la necessità di questo abbraccio, ma fisicamente quello che ci resta sulla pelle è appunto l'area dei venti, i voli del sonno forse. Interiormente tutto il resto, quindi voleva essere un po' un canto di riconciliazione, di rappacificazione. Mi sono trovato a dedicarlo anche a momenti di questo tipo o quando c'è un ambiente magari da inaugurare, c'è una festa per un nuovo spazio, una casa, qualcuno che ama molto uno spazio, lo condivide, lo apre ad altri. Io sento sempre un po' questo bisogno di intonarsi a questi multipli perfetti come sono gli armonici, che non possono stonare, stoniamo magari nella fondamentale, almeno io, ma gli armonici sappiamo che sono per forza di cose perfettamente intonati. E quindi questo mi fa sorridere, ripensare come dal mimo poi insomma si è arrivato a tutto questo. Evidentemente un filo rosso forse lo possiamo sempre trovare quando ci mettiamo in cammino alla ricerca di ciò che unisce tutte le cose. Dal mimo alla lauda medievale agli armonici fino ad arrivare anche al Novecento perché Palazzeschi e quant'altro, no? Eh sì, 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 una scrittura che poi è profondamente in relazione io credo con i miei amati giullari che avevo già affrontato a partire già le prime cose dal 98, 97 anzi, con un concerto giullaresco con Alberto Canepa e Alfio Antico alle Tamorre, grande Tamorraro, grande percussionista siciliano e avevamo dedicato questo spettacolo concerto alla passione comune per il teatro, la musica popolare. E lì avevo cominciato a presentare le prime cose di brani giullareschi che poi confluiranno nell'ingente intendente questo sermone, il monologo che ho dedicato a questo repertorio a partire dal 2000. Però incontrando il Novecento ecco che mi venne incontro un autore come Aldo Palazzeschi che mi ricordava molto, anche proprio stilisticamente, certe forme dei giullari, della poesia giullaresca. E allora così, un brevissimo brano molto celebre come Riobò. E allora guarda ti lascio tutto campo così almeno ti possono vedere. tre casettine dai tetti a guazzi, un verde pradicello, un esiguo ruscello, un riubbo, un vigile cipresso. microscopico paese, è vero, paese da nulla, ma però c'è sempre di sopra una stella, una grande, magnifica stella che ha un dipresso, occhieggia con la punta del cipresso di Riobò. una stella innamorata, chissà se nemmeno ce l'ha una grande città. wow, cioè questi, se hai passato qualche ottava proprio in un attimo. ma è anche, sai io, allora, la storia mia dell'Associazione Carossa Centro Culturale per la Oralità, di cui purtroppo per loro continuo a essere legale rappresentante, è fondata assieme a compagni storici come Maurizio San Girardi, poi Rossella D'Assu, con il quale ancora lavoriamo, poi entrò a Luigi Sermani, il nostro tecnico, insomma, tante tante avventure dal 1997 che ci portarono anche un po' come vocazione a lavorare spesso in provincia. Quando, diciamolo, anche la provincia di Bologna, senza fare così confronti, però era come un po' tutta l'Italia, in condizioni per cui poteva vincere il primo premio culturale come prima provincia d'Italia, perché adesso, questo forse è interessante ricordarlo anche ai più diversamente anziani, insomma, vabbè, ai più giovani, per ricordare cos'è stata anche l'Italia, insomma, una ventina d'anni fa. Si potevano fare nella sola provincia di Bologna circa 800 spettacoli in un anno, con un miliardo di vecchie lire di stanziamenti. Questo grazie alle cosiddette volontà politiche, insomma, ci sono persone che hanno dedicato, ecco, il lavoro a questo e immaginati quanti gruppi, che fermento, che vita culturale. Ecco, noi in tutto questo, come anche altri, avevamo un po' una vocazione per non solo la provincia, ma anche i piccoli comuni di montagna, gli anfratti più remoti, le frazioncine, quell'emozione un po' di portare il teatro laddove magari o non c'era mai stato, c'era stato molto dirado, o non c'era più da tanto tempo. Quando feci un film documentario sulla distruzione di uno di questi comuni, un comune già importante rispetto ad altri come Pianoro, ecco, per il comune raso al suolo per il 98% durante l'ultima guerra e poi interamente ricostruito, scoprimo per esempio che c'era un'attività teatrale. Ecco, quindi immaginiamoci nell'Italia, no? Dei grandi bombardamenti si trovavano all'opera compagnie che facevano ricostruzioni di opere liriche. Immaginiamoci l'Italia del 43, del 41, degli anni 40, posti che 15 chilometri da Bologna per arrivarci, ci potevi mettere o ci arrivavi a piedi magari in due o tre ore, oppure immaginiamoci un'Italia incomparabilmente diversa, dove però la diffusione culturale, ecco un po' quello che mi hanno insegnato anche i giullari, cioè il portare la cultura, il portare il teatro, proprio il mettersi in cammino per portare umanamente qualcosa a qualcun altro, era abituale. Pensiamo ai narratori, no? Che poi diventano fuller, fullesta in Romagna o nell'India Romagna, i kuntisti della tradizione siciliana, insomma, e tutti appunto i cantastorie, eredi poi dei giullari medievali, che attraversavano le strade e fornivano un po' questa sorta di tessuto connettivo, insomma, di una cultura, magari incontrando tantissime persone analfabete, ma che grazie a loro venivano informate non solo dei fatti di cronaca, ma anche di storie epiche, come i famosi cicli dei paladini di Francia, nel caso del repertorio kuntistico e del teatro di figura dei pupi, ma anche proprio dei cantastorie. Quindi questa vocazione un po' alla cultura transumante, anche se per pochi chilometri a volte, a chilometro non proprio zero, ma insomma a pochissimi chilometri, questo lavorare per il territorio, questo dare valore, ecco, ai piccoli grandi centri, a ciò che magari veniva tagliato fuori dalle grandi correnti, più o meno mainstream, ma della grande distribuzione, e che invece secondo noi meritavano, ecco, questa, non solo questo riconoscimento, perché non era un riconoscimento, noi per primi venivamo riconosciuti da loro, cioè noi per primi ci abbeveravamo e ci nutrivamo del loro apporto, però questo bisogno, forse, ecco, di incontri in posti, fra l'altro bellissimi, spesso e volentieri, possiamo immaginare l'Italia degli 8 mila comuni, quello che rivela e nasconde al di fuori dei grandi circuiti. Ecco, questa vocazione, questa emozione, questo piacere, è un po' così, in nuce, in quintessenza omeopatica, potremmo dire contenuto, in questo brano di Palazzeschi, insomma, e a ricordarci un po' che la cosiddetta provincia italiana è stata quella che ha sostenuto e continua, in un certo senso, a sostenere la cultura, il teatro italiano, fin dalla notte dei tempi, se perdiamo questo senso della differenza, se pensiamo di polarizzare la cultura, prima solo in certi grandi luoghi, più o meno, in certi grandi eventi, poi adesso addirittura sì, la disseminazione che la rete può fare è capillare, ma sappiamo benissimo che poi su internet troviamo quello spesso e volentieri che sappiamo già esserci. Il navigatore è colui che si mette in cammino e va a cercare le cose più riposte, perché sappiamo benissimo che non è tutto visibile su internet, anche se magari di grande qualità. Ecco, un po' lo spirito è lo stesso, quindi lo dico anche ai piccoli grandi navigatori della rete, andiamo a cercarci a volte le cose più riposte, magari quelle che non hanno i miliardi di visualizzazioni, ma che forse vi incuriosiscono, come diceva il nostro insegnante italiano, poeta e scrittore, entrate in libreria, lasciatevi trasportare anche dalla costa di un libro, dal carattere di un titolo, dal colore, da quello che vi suona, vi annusate, possa essere interessante, non soltanto quello che vi hanno detto di leggere o l'edizione conclamata. Per cui c'è un po' tutto questo, ecco, in Palazzeschi e c'è anche un po' una vocazione, qualcuno potrebbe dire minoritaria, forse sì, meno furba, senz'altro, ma non è per fare assolutamente, tu mi capisci, insomma, ci mancherebbe altro. Però, stavo per, non so, lasciamo perdere i paroloni, non nessuno qua, sì, perché poi sono tanti i teatranti che hanno lavorato così, ecco, siamo veramente in tantissimi, e ecco, sarebbe bello, bello, che con le forme nuove che nasceranno, sicuramente, le modalità diverse, però ci ricordassimo che la differenza è stata, è stato il primo cibo che ha, che ha, il primo concime, direi, che ha alimentato il panorama culturale italiano di ogni latitudine, di ogni età. Bellissimo questo pezzo di storia che veramente spero, adesso tu hai toccato un argomento molto particolare, che cosa nascerà? E quindi ti faccio questa domanda e poi ti chiedo anche, visto che il tuo spirito giullaresco è evidente, e ti chiedo anche cosa ne pensi del tuo amico Cecco Angiolieri, poi. Però, ecco, questo volevo chiederti prima di lasciarti a questa performance. Si parla tanto di possibilità di teatro multimediale, che adesso non è tanto una possibilità quanto un'esigenza. anche se il primo teatro multimediale è sempre e comunque stato un teatro dal vivo, non è mai, non abbiamo mai pensato di fare un teatro, anche perché ci vuole la fisicità per fare il teatro, no? Certo. molto di più, ahimè, o forse per fortuna, di quello che ormai è stato sdoganato da anni con, nella musica pop contemporanea, dove l'immagine di un videoclip va a sostituire nell'immaginario collettivo la performance live di un cantante, no? oppure adesso con YouTube o con i grandi motori di ricerca che ci permettono, ci rendono visibile, abbiamo detto tutto, ma non proprio tutto come dicevi tu prima. E quindi, cosa ne pensi di, cioè, come vedi il, adesso, dopo questo reset, dopo questo punto zero che ovviamente è stato fatto, che cosa vedi da qui ai prossimi uno, due, tre, cinque anni? Se si può fare come ci ha insegnato la pandemia, non fate programmi di lungo corso, però noi dobbiamo avere una visione, quantomeno, no? Ma sicuramente è uno straordinario strumento di informazione la rete, meraviglioso, per esempio, per un certo tipo di didattica, di approfondimento, di conoscenze, perché io trovo che dare la possibilità a tutto il mondo di seguire una conferenza o anche una lezione spettacolo, una conferenza performativa che possa unire anche in modo intelligente, beh perché no, anche tecnologicamente voluto, le competenze per esempio della presentazione con una possibilità che già forse non dico niente di nuovo, anzi aveva ovviamente sviluppato anche la televisione, di portare la scenicità ecco in casa nostra, addirittura portata di palmo di mano, quando è usata in modo intelligente, quindi l'informazione è voluta, l'approfondimento perché no, anche spettacolare o non ci vergogniamo a dire anche di intrattenimento perché c'è un intrattenimento estremamente intelligente, anche qui lasciamo stare, insomma cosa ci ha offerto il teatro, io sono venuto un po' dopo ma insomma la grande cultura dell'avanspettacolo da cui sono usciti i signori attori che poi insomma hanno fatto il teatro e il cinema brillante non solo d'Italia, quindi una scuola straordinaria, ecco quindi tutte le latitudini possibili immaginabili perché no forme anche di non lo so di di approfondimento multimediale, io guardo uno spettacolo perché no sicuramente c'è chi già lo fa mi resta registrato posso come fa l'editoria magari aprire sulla pagina degli approfondimenti storico artistici delle fonti iconografiche dei riferimenti filologici ecco per esempio lo spettacolo sulla letteratura mi posso andare a leggere se voglio a quel punto in quel momento un approfondimento storico critico di uno studioso che magari posso trovare nell'impaginazione della di quel format ecco io penso che questo potrebbe essere uno strumento di grande utilità anche didattica anche per la scuola certo attenzione ragazzi fermare gli spettacoli per andarsi a leggere il brano ecco lo spettacolo va visto almeno la prima volta insomma almeno quando vogliamo recuperarli in senso unitario tutti insieme però può essere utile il fatto che sappiamo che a quel punto c'è un riferimento a quell'altro c'è un altro in modo intelligente già aspetta quinto canto andiamo a vedere il trattato di amore di Andrea Cappellano Dante prende Amorca nulla amata ma perdona da questa idea di questo autore interessante e quindi tu contestualizzi anche un tessuto rappresentativo scenico performativo con un'integrazione storico critico letterario quello che è immaginiamoci con la musica e via discorrendo ecco io credo che questo la rete lo potrebbe fare in un modo straordinario forse proprio la rete proprio come rete e rete di relazioni multimediali insomma potrebbe dare la possibilità soprattutto in certi spettacoli oltre al fatto vabbè facevano già i dvd con le bonus track delle o le interviste le note di regia ecco però sai trovarmelo in una composizione anche visivamente in cui c'ho l'iconcina qua il riferimento in basso a sinistra si può lavorare in modo credo molto intelligente pensare che la vita possa finire qua dentro è un'idea alla quale mi rifiuto e mi rifiuterò per il resto dei miei giorni non che attenzione ho fatto anch'io lo spettacolo in streaming si possa fare quando non c'è altro modo quando ha un senso farlo sì ma non pensiamo che ecco di morire in streaming ragazzi non pensiamo che si possa finire in una rete forse anche la più prestigiosa o la più conosciuta come così una senza mai più respirare la stessa area degli spettatori ecco questa è un'idea da scartare in tutti i modi e allora a questo punto ti lascio perché ritorniamo allo spirito un po' giù laresco e ti lascio a cecco di cecco angiolieri si fosse fuoco si fosse fuoco arderei il mondo si fosse vento lo tempesterei che tutti i cristiani imbrigherei si fosse imperatore sa che farei a tutti mozzerei lo capo attondo si fosse morte andarei da mio padre si fosse vita fuggirei da lui similemente faria da mi madre si fosse cieco come io sono e fui vorrei le donne giovani e le ciairee e vecchie laide lasserei altrui ragazzi realista direi no ragazzi così come vedi poi tante cose che sono venute secoli secoli dopo non sono che variazioni sul tema non che sia stato tutto già inventato io non sono assolutamente favorevole a questa lettura della vita e della vita dell'arte però abbiamo dei signori antecedenti signori antenati che ci hanno offerto degli spunti di chiamare senti prima di entrare in un discorso un po' infernale didattico mettiamola così ti vorrei chiedere anche che rapporto e come ti ha arricchito un tema tangente una poesia tangente a quella che tu hai fatto un attimo fa che però come ti sei confrontato con per esempio il romanesco e come è stato per te se è stato un momento una pietra angolare se è stato un momento diciamo che l'arte del mimo è quella anche di andare a recuperare una sorta di vocalità di anima vocale oltre che di anima prettamente mimica e come ti sei confrontato con questo tipo di possibilità giustamente tu hai toccato un tema fondamentale perché c'è una mimesi linguistica c'è una mimisi linguistica che va a accogliere nel mio caso un piccolo grande dramma per un ragazzo che scopre il teatro comico scopre tutto questo mondo grazie a Dario Foga Walter Chiari visti da bambino da ragazzo a questi anche grandi enormi interpreti della scena comica e a loro volte eredi di questi giullari medievali di cui stiamo anche in qualche modo parlando cosa succede nell'Italia e nell'italiano dei 1500 dialetti storicamente certificati o io preferirei dire con buona pace dei glottologi che non sarebbero forse d'accordo delle 1500 lingue subnazionali non sono tutte riconosciute come lingue evidentemente ma ci sono ci sono delle lingue ci sono dei dialetti che insomma sono anche molto difficili da comprendere sappiamo benissimo che beh c'era la nonna di un mio coetaneo che sapeva riconoscere i quartieri di Bologna la provenienza da quale quartiere provenisse una persona secondo di come parlasse quindi immaginiamo un'Italia immaginiamo la conosciamo perfettamente un'Italia in cui cambiando quartiere cambiando frazione cambiando paesino di 5 km in 5 km già ci sono dei modi di dire diversi noto è l'esercizio che in molte scuole di teatro si fa fare al giovane attore al giovane studente quando magari si cerca di fargli cogliere meglio lo spirito di quello che dice dillo nel tuo dialetto quindi essere non essere diventa song o non song come ci raccontava una volta Albertazzi una studente napoletà e via discorrento e spesso e volentieri succede quella piccola strana ma comprensibile in realtà magia che parlando il proprio dialetto quello che dici diventa subito molto più autentico immaginiamoci per un teatrante comico per un comico cosa significa avere un dialetto proprio una sorta di lascia passare una sorta di viatico identitario la lingua è fondamento di identità la lingua è attribuzione specifica cogente direi molto più calzante di un significato attribuito alla cosa che stai dicendo che non spesso una lingua nazionale che sia vissuta come una volta avremmo potuto dire superfetazione cioè sovrapposizione stratificazione o come direbbe la filologia ad strato cioè qualcosa che arriva lateralmente e si pone allo stesso livello di un'altra lingua io credo che fondamentalmente sì il fascismo come si direbbe dalle mie parti ci ha dato una bella botta all'atrofizzarsi di tanta cultura popolare linguistica per la nota operazione di cercare di italianizzare il più possibile quindi sprovincializzare si pensava la televisione ha dato un altro carico da 90 ci ha messo ma io credo che anche la mobilità sociale abbia influito sulla se non scomparsa per fortuna ma sulla sulla diminuzione ecco della cultura linguistica popolare e qui vengo al tema personale mio padre era di Roma mia madre è di Rovigo si incontrano a Bologna prima che io nascessi mio padre viveva a Bologna già da 1938 mia madre c'era arrivata comunque anche lei prima di conoscere mio padre ma non sono Bolognesi nessuno dei due lo era cosa succede che in casa io non sentirò mai parlare Bolognese non sentirò mai parlare la lingua della mia realtà e quindi fin da bambino inizia una piccola fin da bambino io mi ricordo le prime umiliazioni che io ho ricevuto di cui porto ancora i segni nella pelle della memoria erano i miei tentativi di chiaramente uniformarmi al gruppo parlando Bolognese e qualcuno che puntualmente mi rispondeva te non sai mica parlare Bolognese e sappiamo cosa significhi da bambini sentirsi esclusi in una cosa che evidentemente già per me era fondamentale mi ricordo mio padre che io no ma mi ricordo il momento in cui mio padre notò che io avessi ad Anagni il paese di mio nonno suo padre avessi apostrofato il mulo di passaggio in una sorta di Anagnino che evidentemente avevo orecchiato in quei giorni mi ricordo la mia imitazione del geppetto di Manfredi nel Pinocchio di Comencini poi tra l'altro Manfredi Ciociaro anche lui che lui stesso raccontava che uscito dall'Accademia dovette riprovincializzarsi perché essendosi dovuto mondare ripulire dal suo Ciociaro per imparare l'italiano poi quando uscì dall'Accademia diceva se volevo lavorare dovevo recuperare il Ciociaro per poi fare quei film in cui lo richiede quindi sappiamo benissimo l'importanza linguistica teatrale in una realtà come quella italiana e soprattutto in una realtà come il teatro comico quindi io cosa mi trovai a fare come attore non avendo un dialetto mio intanto recuperare quello che avevo sentito quindi il laziale più che romanesco perché mia nonna poi era nativa di Sutri lei diceva di essere romana ovviamente ma insomma mio nonna era ragnino avevano vissuto a Roma ma erano andati via prestissimo mio nonno lavorando alla rete telefonica di Palazzo Venezia già nel 1932 aveva sentito non lo so che cosa ma insomma aria che fosse meglio cambiare aria poi arrivarono nel 1928 a Bologna dove presero una guerra terribile sanguinosissima insomma io stesso sono figlio di un ordine non dato perché mio padre cadde in una retata dei tedeschi e quindi era destinato a partire per la Germania e quindi e forse a questo magari un attimo acceneremo più tardi a questo momento storico però ecco arrivano a Bologna e continuarono ovviamente a parlare con il loro accento quindi quello laziale in casa i nonni vivevano sotto quello rodigino Veneto quando andavo a trovare i nonni a Rovigo in guarda caso il mio primo spettacolo che io scrissi era in Veneto Maccheronico ma non potevo in un omaggio all'800-900 come la lettura al spettacolo il suono del paesaggio non dedicare in quanto paesaggio apocalittico in questo caso certamente non terreno un breve omaggio appunto a Giuseppe Gioacchino Belli con un sonetto forse tra i più famosi come appunto Er giorno del giudizio e allora ti lascio tutto lo spazio quattro angiolone con le trombe in bocca se metteranno uno peccantone a sonà poi con tanto devocione cominceranno a di fora chi tocca allora verrà su una filastrocca dei schertri dalla terra pecorone per ripigliar figura di persone come purcini attorno della biocca e sta biocca sarà Dio Benedetto che ne farà due parte bianca e nera una panna in cantina una sur tetto all'ultimo uscirà una suonagliera ad angeli e come si sannassi al letto smorzeranno gli lumi e buonasera e questo è è un omaggio a una lingua non lingua che come tante altre ho cercato di suonare perché poi dopo sono andato a rompere le scatole pensa che nel solo presepe della di perseverare umanumest sono circa una ventina i dialetti personaggi ognuno con l'attivo dialetto tra pastori sostanzialmente tutti i pastori che metto in scena pastori angeli insomma ce ne sono di vario tipo c'è anche una rappresentazione in chiave giapponese della Sacra Famiglia che metto in scena in quella mezz'oretta di cose quindi è stato proprio un bisogno di ritrovare qui ecco anche un'unità culturale forse che in quegli anni un po' mi mancava a